eccoci qua ben trovati io sono a monte catini terme con renzo ducati ciao renzo ben trovato siamo in attesa del treno però ho detto va mentre si aspetta il treno parliamo di libri tu sei stato appena premiato a monte catini terme al premio cerruglio raccontaci un po dai niente è un premio speciale assegnato ad apnea che è il libro il romanzo apnea intendo che è il secondo della serie della saga di chiaro steward ci ricordi chi è chiaro steward è l'eroina della cia che è spalmata su tutti ormai i cinque i cinque romanzi ricordiamoli almeno si rinfresca un po' l'idea perché c'è una grossa novità che va da algoritmo apnea appunto aritmia che è stato che è stata entrata in finale col premio cerruglio nel 2016 con ottava decade che è entrata in finale nel 2018 e adesso si prosegue ecco il nuovo uscito a febbraio che è la spia venuta dal golfo ecco io vi faccio vedere la copertina perché naturalmente è tutto in valigia perché sta partendo eccola qua lo sto coprendo la spia venuta dal golfo ce ne parli un po' la spia venuta dal golfo non c'è caro steward però è come ci fosse perché è nell'aria diciamo nell'aria nell'aria dell'intelligence di quel settore di houston della cia e la storia di un farla breve per non raccontare la trama è la storia di un marine molto giovane spedito nel golfo è stato ferito alla testa ed è stato salvato in estremis alla clinica super universitaria di di san francisco prosegue la sua storia fino a alla fine che che puntini 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 quante peripezie attraversa ecco questo ma diciamo che è un po ostaggio dopo dopo questa ferita la testa è stato è stato tenuto ostaggio da una voce da una voce che lo guidava e l'ha fatto crescere in maniera di arrivare un ottimo agente cia fra il resto nella seconda parte del romanzo verrà spostato in italia perché ormai era stato bruciato diciamo nei paesi sassoni o negli stati uniti e poi e poi leggete il libro che è giusto comprare e leggere il libro senti ma tu quanti libri vuoi scrivere ancora dieci 10 ha detto 10 6 allo 10 ai miei 90 anni arriverò col decimo questo signore ha 86 anni è un ragazzo li porti benissimo benissimo veramente bene quindi non ci vuoi dire il finale no di della spia venuta dal golfo dovete leggere hai una pagina soli e già fuori anche in ebook o che lo possiamo anche scaricare tranquillamente sul nostro smartphone che bello io farò così io sono molto smart molto leggero mi piace leggere anche online quindi hai una pagina social si per venire a recuperarti su facebook ci sei esatto assolutamente grazie mille su twitter grazie mille noi ci vediamo al prossimo libro esatto ciao che sarà la prosecuzione di quest'altro perfetto perché è rimasto è rimasto con un grosso punto di domanda va bene grazie per ora ciao interessati e ansiosi di leggere il successivo che se avete un po' di pazienza sto terminando per adesso è la spia venuta dal golfo ciao renzo ciao ciao grazie furio